Buon pomeriggio, bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini. Partiamo con la 1, una manifestazione uscita in entrambe le direzioni chiuse, siamo a Val di Chiana, ancora sulla 1, tra Calenzano e il Bivio A1 variante di Valico in direzione Bologna c'è un veicolo in avaria, veicolo fermo anche tra Pistoia e Prato Ovest sulla A11 in direzione di Firenze. Passiamo alla Firenze Pisa Livorno tra l'Interporto Toscano Est e il Bivio SGC A12 con le salveti materiali sulla carreggiata in direzione Firenze. Veniamo proprio a Firenze domani giovedì 15 febbraio, orario 9.19, sarà in vigore un divieto di transito tra via Quintino Sella e Lungarno Colombo. Per i treni la regionale 4100 Roma Tiburtina Firenze Santa Maria Novella viaggia con 44 minuti di ritardo. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.